Siamo qua a intervistare il migliore in campo, Siviglia contro Napoli, partita terminata 4-3, ottima prestazione, doppietta tua, accetti Galliani, Mariani che è in campo, 2 gol, cosa si prova a segnare 2 gol? Consola anche la prima in classifica, la seconda forse, ringrazio la mia squadra, grazie a Riccardo Catapano e Carla Badri che mi hanno portato a cuore, la mia prima gol, la doppietta, sono molto disposto, mi trovo bene, ringrazio Max che ha aumentato il prezzo del campo, Iperinflazione, tanto ci ha spostato per la seconda notte la partita Max, grazie, ringrazio per i vostri ringraziamenti, ringrazio Fulvio, no vabbè Carlo cominciò a parte, doppietta anche di Calabria, non parliamo sempre di me, un posto offerta proprio sempre dominato, l'arbitraggio, scandaloso direi, dei migliori, pensando che sono Sergio, dei migliori, vabbè dai ringraziamo il GIA, un saluto a Carlo, Max, grazie, 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 grazie